Il Fomes fomentarius, comunemente noto come fungo dell'esca, è un fungo patogeno delle piante diffuso in Europa, Asia, Africa e Nord America. Il nome della specie, cioè l'epiteto specifico fomentarius, deriva dal latino fomentum, che significa letteralmente esca per il fuoco o innesco. Si tratta di una specie che ha una forma molto caratteristica, che ricorda quella dello zoccolo di un cavallo. Cresce sul fusto di diverse specie di alberi che infetta attraverso soluzioni di continuità della corteccia. Nel caso che l'albero cada, il Fomes fomentarius ruota il proprio asse in modo che l'immenio si trovi parallelo al terreno. Questo fenomeno è chiamato geotropismo. È un fungo che predilige i legni duri, come betulla, faggio, quercia e molte altre specie di latifoglie, ma raramente lo si trova su legni teneri come le conifere. È molto tenace e difficile da staccare dal legno sul quale cresce. Come nel caso della Fomitopsis pinicola, di cui vi ho già parlato, si tratta di una specie che continua a vivere sugli alberi anche dopo la loro morte, passando da una condizione di parassita a quella di saprofita. Credo che sia abbastanza chiaro che non si tratti di una specie commestibile. Il Fomes fomentarius ha un diametro che può arrivare a 45 cm e uno spessore fino ai 25 cm e aderisce direttamente al tronco dell'albero su cui cresce senza un gambo, quindi si dice che ha una forma sessile. Sebbene abbia la forma tipica dello zoccolo di un cavallo, può anche essere simile a una staffa, perché a volte risulta avere un aspetto unbonato. La carne è dura e fibrosa e di colore marron cannella, ha un sapore acre con odore leggermente fruttato e acidulo. La corteccia, cioè la parte più esterna e superficiale, è dura, irregolare, di consistenza legnosa, di colore variabile tra il marron chiaro e il grigio. Il margine è biancastro durante i periodi di crescita e la sporata è bianca. La parte corticale ha uno spessore compreso tra 1 e 2 mm e riveste la carne più dura interna. L'immenio è a pori rotondi, di color crema quando sono giovani, mentre a maturità divengono marron e tendono a scurirsi al tocco. I pori sono circolari e molto fitti, ce ne sono 2-3 per millimetro. I tubuli sono lunghi da 2 a 7 mm e di colore marron ruggine o cannella. La colorazione e le dimensioni del corpo fruttifero possono variare in base al luogo di crescita dell'esemplare. Il suo colore può variare da un grigio argenteo fino a un quasi nero, sebbene siano normalmente di un colore tra il grigio e il marron. Il Fomes fomentarius in alcuni casi può essere confuso con la Fomitopsis pinicola ed è una specie che si incontra molto di frequente. Normalmente cresce da solo, ma a volte si possono trovare più esemplari sullo stesso albero o ceppo. I corpi fruttiferi sono perenni e sopravvivono fino a 30 anni. Il periodo di crescita maggiore è tra l'inizio dell'estate e l'autunno. La crescita avviene sempre sul fondo del fungo, il che significa che lo strato più basso è quello più giovane. Il Fomes fomentarius è stato impiegato come ingrediente principale dell'amadù, un materiale utilizzato principalmente come esca per accendere il fuoco, da cui il nome popolare del Fomes, detto appunto fungo dell'esca. Erzi, l'uomo di Simulaun vissuto nel 3000 a.C., aveva con sé alcuni pezzi di Fomes fomentarius proprio per impiegarlo il fuoco mesca per accendere il fuoco. Se questo video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale e lascia un commento. Grazie per avermi seguito, a presto!